Siamo con Bebo Carrozza della Mezza Soccer, partita combattuta, vincente, un commento a caldo. È stata una bellissima partita, tra due squadre che volevano arrivare seconde, purtroppo è andata male per noi, però è stata veramente una partita, uno spot per il calcio a 5 regionale, spero anche nazionale. Venivate da 9 vittorie consecutive, ora questo pareggio che vi ha tagliato fuori dal secondo posto. Un pareggio a Polister non è una cosa veramente di questi giorni, non è un risultato che ci può far soltanto piacere. Chiaramente ai fini della seconda posizione non è andata bene, però abbiamo fatto una grande partita il secondo tempo. Il primo tempo secondo me potevamo giocare molto meglio. Loro volevano vincere, ci hanno messo in difficoltà, perché poi è giusto anche menzionare gli avversari. Non è sempre merito, le merito più. Giustamente gli avversari giocherò bene. Ti sei giocato tutto negli ultimi minuti con il portiere in movimento, ma anche questo non è servito per la tua squadra? Non è servito, l'abbiamo fatto molto lento e soprattutto secondo me erano un po' troppo stabili. Loro hanno difeso bene, onestamente abbiamo fatto praticamente nulla, solo possesso. E' una cosa che dovrò migliorare in allenamento, cerchiamo di migliorarci in vista di questi play-off per farlo meglio. Anche perché può darsi che ci si incontri di nuovo con il PCC. Facciamo gli scongiuri, ma io ve lo auguro, perché vuol dire che siamo lì. Ora vediamo, mi sa che incontreremo la Casolese e altre grande squadre, come il Croton. Onestamente saranno due belle semifinali play-off. Sicuramente. Quattro squadre veramente forti, competitive. Bene, io te ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie a te. Un bocca al lupo per la prossima. A presto a rivedersi. Speriamo presto. Grazie. Ben trovato a Michele Spanò, mister del PCC. Ciao Michele. Ben trovato anche a voi della redazione. Michele, allora oggi partita combattuta, la tua squadra, seppur rimaneggiata, ha fatto un figurone. Sì, sono molto soddisfatto perché tu proprio ieri mi hai richiesto un'intervista a due righe in merito alla partita di oggi. Io ti avevo detto quella che è la mia sensazione di quest'anno. Ti ho detto che di tutti gli anni che ho gestito io questo gruppo, questo è quello che sono meno contento dal punto di vista dell'agonismo, della lotta. Forse hanno ricevuto il messaggio che io volevo dare a loro e oggi hanno risposto come rispondono di solito le mie squadre, anche se il primo tempo bisogna essere cinici perché rispetto a loro abbiamo iniziato meglio, quando ti capitano quelle occasioni la devi mettere dentro altrimenti poi fino alla fine devi stare con la paura che puoi perdere la partita. Sì, in effetti già dal secondo minuto mi pare si era in vantaggio. Sì, eravamo in vantaggio. Secondo me sull'impatto della partita noi siamo stati molto bravi oggi. Abbiamo avuto un paio di occasioni che li devi sfruttare perché la Mezzia, non lo dico per i rapporti che abbiamo con la società alla Mettina, ma è una squadra di tutto rispetto, che veniva da 9 risultati o 9 vittorie consecutive e quindi la dice lunga che è la Mezzia. Quindi è una squadra che o gli è del colpo di grazia o poi ti fa soffrire fino all'ultimo secondo come è fatto oggi. Certo, i giocatori entrati in campo oggi non hanno fatto sentire la mancanza dei vari... No, se pensi che io purtroppo devo andare fuori per una sanzione che credo non meritavo, però non sta a me dirlo. Capitano Insana squalificato, oggi c'è Napoli squalificato, Mario Foti squalificato, sapevamo che era molto dura. Ho chiesto alla città di darci una grande mano d'aiuto, ha risposto come visto veramente alla grande e ci hanno dato una grande mano d'aiuto per portare a casa questo semplice. Sì, sicuramente il pubblico ha seguito in maniera... Sì, 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 sono molto soddisfatto, ma te l'ho detto già in altre interviste. La prima vittoria della mia società è questa, aver portato così tanta gente al palazzetto, vedere i ragazzi che fanno gli ultras perché aspettano il sabato veramente come una festa per loro. E ora questi play-off, Michele? Ma i play-off, secondo me siamo quattro squadre sullo stesso livello. Il Croton io lo paragono alla mezza, se mi chiedevi la squadra che volevo trovare per sabato prossimo, te l'avevo detto la Casolesi, con tutto il rispetto per la Casolesi, avevamo un conticino in sospeso e ci tenevo, ci tenevo... Perché sono venuti a Polista e non hanno vinto mai. Non hanno vinto, sì, in modo molto facile, noi venivamo da una trasferta di Mirto che ci ha lasciato un segno per tutto il seguito del campionato, quindi ci tenevo in modo particolare di incontrare la Casolesi. Però adesso invece incontreremo gli amici del Croton, ci tengo a dire così. Bene, allora Michele, speriamo che per la tua squadra si prospetti un finale di stagione entusiasmante. Sì, spero che almeno queste due partite che rimangono posso avere la soddisfazione di dire ho ritrovato la mia squadra anche se in ritardo o sono riuscito a mandare il messaggio che volevo e durante l'anno non l'ho fatto per ovvi motivi, per più motivi di gestione di uomini, di spogliatoio, ma uno come me che non ha mai fatto un corso, non ho mai preso un libro per leggere, le squadre devono giocare con la mia logica e con la mia filosofia perché oggi ho visto... E con la tua grinta. Oggi ho visto che paga, quindi le altre cose le lasciamo fare a chi ne sa fare. Bene così Michele, grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutto quello che avete fatto quest'anno. Grazie, grazie.